Torna anche Ricchi Cervi nelle rotazioni, ancora zona per gli ospiti, Procida con la quinta tripla di Cantoni. Faccio bene, una volta poi invece è fatta ancora meglio la tripla di Gabriele Procida, si dimostra sempre più specialista del mio tiro da trepura. Lo scarico per la tripla di Procida che si prende la propria rivincita dopo la mazzata sul naso. La rivincita, altra tripla, 4 su 5.